Cosa pensa del settore finanziario? Per quanto riguarda la piazza, credo che se vuole essere un contributo all'economia ticinese deve fare dei crediti alle imprese, dei giovani e dei meno giovani, promuovere il capitale di rischio anziché guardare i mercati internazionali per raccogliere dei risparmi da poi mettere su questi mercati. Credo che il mestiere originale della banca sia quello di dare anzitutto dei crediti affinché l'economia possa svilupparsi e poi cercare di raccogliere una parte dei redditi formati sotto forma di risparmio e poi gestirli diversamente. La banca originale è questo, finché la banca è oggi in Ticino come altrove guarda innanzitutto i mercati finanziari e alle rendite di breve termine credo che il Ticino in quanto tessuto economico resti quello che è. Professore, ma dove pensa che vadano a prendere le banche i soldi per fare i prestiti e per fare i crediti? Non hanno bisogno di avere risparmi le banche per dare i crediti. E dove vanno a prendere i soldi? Li emettono, creano dal nulla. Dal nulla? Come mostra l'iniziativa moneta intera su cui saremo chiamati a votare forse già quest'anno. Le banche danno prestiti e poi raccogliono i depositi. Sì, ma devono avere dei depositi per poter prendere i crediti per fare i prestiti. Non possono prestare soldi senza avere... Ma logicamente il primo deposito da dove viene, secondo lei? Dai clienti che ci affidano i loro risparmi. I risparmi come nascono? Ma cosa c'entra? Occorre produrre un reddito, no? Ma certo, ma lei sta dicendo... Il reddito è prodotto grazie al credito che le banche danno alle imprese. Limitiamoci a rispondere al punto che lei sta sollevando. Se le banche non fanno credito alle imprese, non si crea reddito, non ci sono depositi. Allora, vuole che le spiego come funziona la banca o vuole spiegarmelo lei? Cioè, se vuole, guardi, le dico, per fare un credito la banca deve avere dei depositi, ok? Deve avere dei depositi. Certo che deve avere dei depositi. Scusi, signor Armotti, se io vado nella sua banca a chiedere un prestito ipotecario, chi casomai decide di darmi prestito, guarda se la banca ha abbastanza soldi in deposito oppure dice il prestito te lo do perché hai delle garanzie di rimborso oppure non te lo do perché non sai fidare. Ma quello è chiaro perché le garanzie le vogliamo perché poi dovremo ritornare, i soldi che prestiamo dovremo ritornarli a chi ci ha dato, a chi ci ha affidato i risparmi in gestione. Non possiamo costruire... I risparmi sono il rifinanziamento dei prestiti. Certo, ma alla fine quando liquidiamo tutto noi dobbiamo essere capaci di ripagare i nostri debiti e perciò dobbiamo attingere da soldi dai vari mercati finanziari ma anche dai depositanti, dai risparmiatori locali e dalle casse pensioni che ci danno i loro averi in gestione. Perciò non esiste al mondo che una banca possa erogare crediti senza avere depositi dall'altra parte.